e proseguono le nostre interviste in vista del voto del 27 28 ottobre non manca più tanto e allora eh quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi Jessica Nicolini tanto grazie ciao Jessica ciao Giorgia siamo colleghi me lo concederete da casa il tua Jessica Nicolini che è candidata con la lista Bucci presidente di Vince Liguria quindi che appoggia il sindaco di Genova nonché candidato al corsa alla presidenza di regione Liguria del centro-destra Jessica partiamo dalla prima domanda intanto una breve presentazione sei collega sei giornalista hai lavorato già in altre emittenti poi a un certo punto hai deciso di occuparti del mondo della comunicazione sei diventata portavoce dell'ex presidente Giovanni Totti nove anni importanti la prima cosa che ti chiedo eh a un certo punto hai deciso di passare dall'altro lato che invece conosciuto dal punto di vista comunicativo perché hai deciso di candidarti sono scesa in campo appunto come si dice in questi casi perché dopo nove anni di intenso lavoro in regione al fianco di Giovanni Totti e della sua squadra una squadra che a mia parere ha fatto passare regione Liguria dalla serie B alla Champions League eh delle regioni eh credevo fosse giusto andare avanti con questo grande lavoro io che ho fatto parte di questa squadra mi propongo appunto agli elettori per dire andiamo avanti con quello che è stato fatto con il grande lavoro che è stato fatto non lo dico io lo dicono i numeri lo dicono i dati eh di crescita del nostro territorio il PIL l'occupazione il calo della disoccupazione il calo dei net che sono quei giovani che ne studiano e lavorano e tanti risultati fatti che presentiamo oggi ai Liguri dicendo c'è chi dice di cambiare tutto come Orlando e c'è chi dice avanti su tutto con questi lavori questi risultati concreti che ha portato avanti questa squadra credo fosse proprio un dovere andare avanti in questa avventura un bagaglio di esperienza accumulato molto importante in questi nove anni abbiamo gestito eh tantissime situazioni anche tantissimi momenti difficili penso al Ponte Morandi penso al Covid penso alle mareggiate ne veniamo da un giorno d'allerta anzi ne approfitto per eh ringraziarvi del lavoro che avete svolto in in queste ore vi abbiamo tutti seguito da casa situazioni difficili che abbiamo trasformato anche in opportunità eh di crescita in opportunità di miglioramento del nostro territorio quindi mi sembrava proprio un dovere dire andiamo avanti con le persone che hanno cambiato la Liguria in questi nove anni andiamo avanti a cambiare la Liguria con Marco Bucci che senz'altro sarà un grande capitano della nuova squadra che porterà il cambiamento della nostra regione e continuerà a costruire quell'idea di sviluppo e di futuro di Liguria. Allora prima di arrivare a chiederti anche eh che cosa rivendicate di questi nove anni sappiamo anche cosa è successo il 7 maggio scorso si è rivoluzionata davvero eh quello che era ormai è un percorso che durava ehm da tanti anni si sarebbe andati al voto a fine dell'anno prossimo. Marco Bucci è il candidato giusto tu lo conosci lo conosci anche perché hanno lavorato. Certo abbiamo lavorato tanto insieme in questi nove anni la sua forza il suo coraggio la sua determinazione sono gli elementi che ci vogliono per continuare questo percorso di crescita e di sviluppo quindi io convintamente sostengo Marco Bucci presidente sono infatti proprio una donna della sua lista la lista vince vince Liguria perché credo che lui veramente sia la persona giusta in questo momento per non tornare indietro perché il tema è proprio un appuntamento con la storia andare avanti o tornare indietro in un film che abbiamo già visto il film del governo PD e della sinistra e se il film non è bello figuriamoci il sequel no quindi una scelta di campo importante. Cosa rivendicate di questi nove anni? Lo accennavi tu prima sono stati nove anni che hanno avuto poi un supporto anche da parte dei cittadini soprattutto nel voto quello del 2020 con la riconferma di Giovanni Totti e quindi della sua squadra cosa rivendicate di questi nove anni e poi ti chiedo c'è qualcosa che poteva essere fatto diversamente? Come tutte le cose ovviamente si può fare meglio si può fare ancora meglio ma sono tanti risultati concreti io da mamma posso dirti di un bambino di dieci anni che ho sempre cercato di mettere a servizio anche la sensibilità di una mamma lavoratrice nelle scelte poi che sono state fatte alla giunta Totti dove io comunque ero sempre presente in un modo o nell'altro quindi gli asili nido gratuiti stiamo iniziando ad avere risultati che sono stati veramente importanti è una delle cose di cui vado più fiera perché benissimo la visione le grandi infrastrutture che noi sosteniamo con convinzione ma poi i fatti concreti che aiutano le famiglie sono sono questi quindi ai nido gratuiti e penso ai bonus per le babysitter ai voucher per le badanti o anche quelli per i centri estivi d'estate è sempre un problema la gestione dei bambini quindi tanti elementi concreti che credo che abbiano cambiato la vita alle persone concretamente e che con marco bucci andrebbero sicuramente avanti penso anche alle tante cose che abbiamo fatto per i giovani una formazione professionale mirata poi all'occupazione tanto è vero che i net sono quei giovani che non su ne lavorano sono i più bassi il dato più basso d'italia penso a tante cose che abbiamo fatto anche la comunicazione per far conoscere la liguria per renderla protagonista non a caso il turismo per questo è aumentato ai treni gratuiti per gli abbonamenti e treni gratuiti per gli under 19 scontati al 50 per cento per gli under 26 e direi tante cose concrete tante cose fatte come tutte le cose noi portiamo le cose fatte chiaramente si può fare meglio si può fare di più però i cittadini possono almeno analizzare tutto quello che è stato fatto ed è davvero tanto pensiamo a begato anche sulla rigenerazione urbana alle case popolari pensiamo a tanti progetti che sono ancora sul campo e che devono andare avanti la liguria in questo momento è la regione con più investimenti pubblici sul territorio per le grandi opere perché poi ovviamente la visione è fatta anche di grandi opere con marco bucci siamo certi che queste opere andrebbero avanti con la parte avversaria siamo certi altrettanto certi che verranno messe in discussione e addirittura a volte abolite ed eliminate quindi noi non ci possiamo permettere di perdere questi investimenti pubblici che condizioneranno il futuro non di questa generazione ma anche di tutte le generazioni a venire e allora ti posso non chiedere il ruolo della comunicazione quello che è nato nel 2015 quando giovanni totti vinse le regionali con una spaccatura del centro-sinistra questo va ricordato probabilmente era un po l'outsider giovanni totti professionista giornalista conosceva già bene la politica il mondo della comunicazione la comunicazione che avete creato avete creato un modello che sicuramente sulla liguria probabilmente è stato anche di esempio rispetto ad altre regioni sicuramente è un messaggio forse mandato anche al mondo della sinistra che ha lavorato sempre poco forse e non bene sulla comunicazione però va anche detto che in questi anni è stata alcune volte criticata alcune volte è stata criticata perché avete accentuato troppo quel mondo e come ti comunicativo c'è qualcosa visto che tu eri il deoxer macchina di questo c'è qualcosa che rivendichi perché lo hai fatto e pensi che sia stato giusto qualcosa su cui magari si poteva lavorare in modo diverso se comunicazione vuol dire far conoscere a tutti la liguria e le sue eccellenze e le opportunità che regione liguria offre ai cittadini noi andiamo orgogliosi di aver investito sulla comunicazione sulle campagne per la salute sulle campagne promozionali del turismo sulla comunicazione diretta ai cittadini durante le emergenze quella che viene criticata invece è una macchina che ha avvicinato lente ai cittadini e soprattutto ha reso la liguria protagonista una liguria che quando siamo arrivati non si promuoveva abbastanza pensate lo cito sempre perché lo ritengo clamoroso che al festival di sanremo la regione che faceva la pubblicità era la regione calabria io quella mamma calabrese quindi sorridevo anche vedendo la pubblicità della calabria però in realtà una delle manifestazioni televisive più viste non solo in italia non aveva la sua terra che si promuoveva ma tante tante cose che sono state fatte ne abbiamo partecipato alle più grandi fiere del turismo l'ultima a londra siamo arrivati col pestellone iper criticato ma in realtà in quei giorni a londra si parlava tutti di noi e del pesto che è genovese va 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 rivendicato le campagne nelle aeroporti di tutto il mondo cose che poi concretamente ci sono tornati indietro perché i turisti stranieri sono sono aumentati in questi anni quindi noi rivendichiamo la macchina di comunicazione sempre criticata anche il maxi schermo fuori dalla regione luminoso che in questi giorni viene anche messo in discussione dai nostri avversari era uno strumento per comunicare con i cittadini offrire anche degli spazi a quelle realtà magari più piccoline che non hanno la possibilità di promuoversi quindi toglierlo sarebbe veramente una privazione per le tantissime realtà culturali le associazioni che operano sul nostro territorio che poi sono anche il motore dell'attività culturale della regione quindi veramente noi rivendichiamo con orgoglio la macchina della comunicazione di regione liguria che ha reso la liguria protagonista l'abbiamo fatta vedere in tutto il suo splendore e abbiamo cercato di comunicare con i cittadini sempre le cose belle le cose meno belle comunque ci siamo sempre stati ancora due cose ti ti voglio chiedere la prima riguarda la cultura tu nell'ultimo periodo periodo hai si è diventata responsabile delle politiche culturali di regione liguria cultura anche in questo caso spesso criticata il centro-sinistra ha già detto andrea orlando ha già detto c'è un'altra idea per noi di cultura la cultura spesso forse sempre stata avvicinata più al mondo della sinistra cosa stai riuscita a fare cosa vorresti ancora noi non siamo per la cultura autoreferenziale per pochi della sinistra noi siamo per la cultura che crea crescita che crea sviluppo che crea posti di lavoro e anche lì i dati ci dicono che abbiamo avuto ragione la crescita del pil culturale il più alto rispetto al resto d'italia così come la crescita economica di ricadute del territorio rispetto alla cultura abbiamo investito tantissimo nella cultura 30 milioni di investimenti con il fondo strategico abbiamo ristrutturato dei teatri ci siamo impegnati per far crescere i nostri teatri il teatro nazionale è diventato nazionale il teatro di prosa proprio con la giunta totti con l'assessore cavo il teatro carlo felice ha avuto tantissimi investimenti in questi giorni è stato anche in america come ambasciatore della lirica italiana e poi abbiamo investito anche con le piccole realtà aumentando le voci del bilancio per poterle sostenere l'ultima cosa che ho fatto che avevamo anche promosso insieme è stata portare gli editori liguri al salone del libro di torino non l'aveva mai fatto nessuno l'abbiamo fatto noi si dice che questa è una cultura da luna park no questa è una cultura che crea crescita che crea ricchezza e che attrae anche i turisti sul nostro territorio quindi anche in questo caso noi rivendichiamo un grande risultato e ci piacerebbe andare avanti anche su su questo fronte sulle tante cose fatte e le tante cose che potremmo fare ancora insieme diciamo che qualora marco bucci dovesse vincere immagino ci metterai comunque lo zampino sul mondo culturale ma non diciamo non diciamo altro jessica ti chiedo l'ultima cosa è doveroso chiedertelo qual è il tuo rapporto con giovanni totti la scesa del dell'ex presidente poi quello che accaduto il 7 maggio scorso gli arresti domiciliari la decisione dopo giorni e giorni di riflessione di probabilmente anche di pressione di dimettersi il patteggiamento finale qual è il tuo rapporto personale con giovanni totti e anche quello però pubblico che può in qualche modo mettere in mettere anche magari in difficoltà la tua figura considerando quello che poi è successo dal 7 maggio io non credo che possa mettere in difficoltà alla mia figura perché io vado orgogliosa di questi 9 anni al fianco di giovanni totti e della sua squadra non a caso sono tra i pochi che è rimasta fino alla fine al suo fianco lo stavi dicendo tutto volevo chiedere effettivamente molti lo possiamo dire lo hanno poi mollato si può usare questo termine credo che lui l'abbia anche detto io parlo per me io credo che la coerenza sia tutto nella vita io nei 9 anni ci sono state i momenti belli e anche nei momenti brutti perché poi va bene siamo tutti buoni a stare nei momenti facili a fianco alle persone quindi al netto del rapporto di grande stima con i suoi confronti anche di amicizia io non credo che la sua vicinanza possa danneggiarmi perché la sua vicinanza vuol dire anche 9 anni di lavoro per 9 anni tutti i giorni abbiamo lavorato per la liguria per fare il bene della liguria questa cosa la rivendichiamo senza senza timidezza e credo che l'essere coerenti nella vita valga più magari di qualche critica che si può attrarre nei momenti di difficoltà e sappiamo che non hai fatto nessuno è vero che tu non eri già un politico però non hai fatto diciamo cambio di casacche come invece è capitato per tanti esponenti vicini ognuno è libero di fare di fare quello che ritiene io non commento gli altri commento il mio percorso e che coerentemente va avanti con quel modello di sviluppo di lavoro di crescita quindi gli elettori sapranno che scegliendo me si andrà avanti con quell'impostazione di liguria del fare di cose che si fanno si può anche sbagliare ma meglio fare qualcosa di sbagliato che non fare niente grazie grazie a jessica nicolini candidata al consiglio regionale della liguria con bucci presidente vince genova centro-destra grazie in bocca al lupo grazie 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 a voi per averci seguito torniamo presto con le nostre interviste politiche